ciao ragazzi bentornati i boxari ben ritrovati su xbox zone abbiamo passato i 300 iscritti non ci posso credere 200 iscritti in meno di una settimana è una cosa che non che non avevo mai visto sinceramente quindi sono molto contento neanche con il canale gemello dareci zone avevo fatto così tanti iscritti in così poco tempo penso sia merito a una serie di video su serie s che forse hanno hanno girato bene e sono diventati un pochetto virali non lo so le meccaniche di youtube sono insondabili ma insomma sono contento perché ci sono stati non solo iscritti ma molti interventi scritti molti commenti che mi fa moltissimo piacere perché io leggo tutto allora prima di iniziare l'argomento di questo video che mi ha suggerito un po indirettamente antonello farò una serie di saluti anche in questo video perché ci ho preso gusto questo è un video che probabilmente risulterà molto utile spesso ci troviamo a spiegare banalità perché può capitare ragazzi perché non non è scontato che tutte le persone conoscano tutto e come già detto spesso tante feature xbox sono davanti ai vostri occhi ma non le vedete non le capite perché microsoft non si sa se intenzionalmente o meno non sempre spiega o non sempre è interessata che la gente capisca tutto per esempio i rewards li ho spiegati solo io perché vi sfido a trovare un canale su youtube che spiega i rewards come li spiego io per una serie di motivi prima di tutto probabilmente perché non 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 sanno come funzionano perché i rewards sono molto underground molto sotterranei è un po probabilmente perché non ci sono sponsor dietro ragazzi perché questo canale non è sponsorizzato tutto quello che vedete ascoltate qui non è stato suggerito né finanziato da nessuno sono cose semplicemente che io condivido a onor di conoscenza e di praticità e di miglioramento della propria esistenza informatica consolara e non comunque non c'è nessun interesse dietro il concetto è quello anzi probabilmente loro non vogliono neanche che voi sappiate più di tanto certe cose perché probabilmente certe cose è bene che rimangano i tuoi certi limiti ho già spiegato questo un po' uno dei preamboli del canale comunque prima di continuare io ripeto mi invito a iscrivervi al canale mettere un like al video e soprattutto attivate la campanella per essere sempre informati sui video che verranno qual è l'argomento di questo video andiamo al dunque ragazzi sono poi mi dite che mi vado troppo lungo faccio video troppo lunghi non mi preparo niente ma è così che mi piace sinceramente se mi dovesse scrivere un copione se dovessi leggere un gobbo si verrebbe a perdere un po' quella spontaneità quell'aspetto un po colloquiale che mi piace avere con voi è come se voi parlaste con un vostro amico che magari ha più ha più esperienza di voi e può aiutarvi ma comunque non vuole insegnarvi niente sono tutti ottimi consigli quindi questo aspetto colloquiale si verrebbe a perdere sinceramente se mi piacciono i video dove ci sono le vocali interrotte dove c'è un ritmo forse nato forse questo canale non va bene per voi però su questo canale potreste potreste scoprire cose che prima non sapevate e sentirvi un po migliori allora andiamo andiamo all'argomento di questo video ragazzi ripeto è stato antonello che mi ha dato lo spunto perché lo spunto è l'utilizzo di giochi xbox serie s ma anche stipati su hard disk esterno perché uno degli aspetti forse l'aspetto più criticabile di serie s avete visto ho fatto un sacco di video su serie s l'aspetto più criticabile è quello dello spazio perché ragazzi è lo spazio d'archiviazione di 500 giga di serie s non è tanto questo è un dato oggettivo non è tanto e si riempie molto in fretta l'aspetto ancora che va a gravare la situazione è che molto spazio è occupato purtroppo dal sistema operativo e quindi dei 500 giga a voi ne rimangono poco più di 300 perché il sistema operativo se ne mangia più di 100 300 giga con giochi che occupano 100 e più giga cominciano a diventare veramente ma veramente ma veramente stretti anche se avete l'arma del cloud che io suggerisco di utilizzare con il cloud non dovete installare niente e se vedete un po tutta la roba recente del game pass si può giocare su cloud loro presto vi permetteranno ne sono sicuro è a livello di rumor ma io sono sicuro che questa cosa avverrà vi permetteranno di giocare via cloud la vostra libreria quindi non dovrete installare più niente probabilmente lo spazio su console sarà sempre meno un problema perché microsoft e la considerate come questo aspetto certo che l'ha considerato quindi lo spazio si esaurisce in fretta no 300 giga si esauriscono in fretta se cominciate a scaricare giochi ci sono soluzioni sì ci sono soluzioni ma non completamente funzionali perché prima questo si risolveva collegando un hard disk alla propria console con xbox one si collegava un hard disk da 2 tera spostavi tutti i giochi lì lo puoi fare lo puoi fare anche adesso lo puoi fare certo lo potete fare acquistato un hard disk da 2 tera io vi do anche dei suggerimenti li potete vedere nella descrizione del video vi suggerisco un hard disk esterno toshiba che viene a costare intorno ai 50 euro da 2 terabyte che potete collegare attraverso la presa usb alla console e vi copiate i giochi lì o meglio ancora li scaricate direttamente lì vi faccio vedere io come si fa e che cosa succede succede che però c'è la limitazione chiamata velocity architecture perché serie s e x hanno la velocity architecture vuol dire che se i giochi sono ottimizzati per serie s o x voi si li potete scaricare e spostare sull'hard disk esterno ma non li potete giocare perché sono giochi con architettura velocity ora vi faccio velocity velocity ora vi faccio vedere i giochi che ho io sull'hard disk interno e quello inter esterno allora questi sono tutti i giochi non tutti in realtà questi che in pass no e watchdogs neanche e dragons dogs ma nemmeno ma assas creed valhalla e fifa 22 che è la versione per serie xs utilizzano l'architettura velocity quindi ora per esempio se ne facciamo partire e vabbè speravo ci fosse qui cresium non c'è vabbè ci vediamo un secondo di assas creed valhalla giusto per per ovviare alla monotonia monotonia video valhalla è un gioco con con architettura velocity quindi lo dovete per forza se lo volete giocare lo dovete tenere nell'hard disk interno e adesso è più grosso di 100 giga 120 giga se lo copiate su hard disk esterno non lo potete giocare il sistema vi suggerisce di spostarlo nell'hard disk interno quindi sì lo potete stipare lì però ve lo dovete copiare ogni volta e ci vuole 100 giga ci vuole 15 20 minuti per copiarlo se siete disposti aspettare un'attesa attendere 20 minuti ogni volta per spostarlo non lo potete fare a parare mio si viene un po perdere l'utilità dell'hard disk esterno perché personalmente non ho nessuna voglia di spostarmi un gioco di 120 giga da un hard disk esterno a uno interno in continuazione insomma se lo voglio giocare se ho in prospettiva di giocarlo me lo tengo altrimenti lo cancello e me lo riscarico capite adesso mettiamo un po di di valala rendere il video meno monotono a livello visivo e quindi è questo il discorso ragazzi si potete collegare un hard disk acquistate tranquillamente il toshiba che io vi consiglierò nei suggerimenti e collegatelo tranquillamente alla console lo formattate per poterci installare i giochi e ce ne installate però state attenti per i giochi che sfruttano la velocity architecture sono quelli con il logo x e s nell'angolo non gli fps boost i giochi con fps boost potete continuare a giocarli dall'hard disk esterno ok adesso io torno nell'home non solo i i giochi con la l'architettura velocity hanno anche il quick resum cioè te li potete far ripartire esattamente da dove avete interrotto i caricamenti sono molto 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 più veloci quindi ci sono degli indubi vantaggi però la richiesta è quella di averli nell'hard disk esterno c'è un'altra soluzione sì c'è un'altra soluzione ma costa un sacco di quattrini amici miei boxari se avete le tasche piene allora vi dico fatelo si tratta di acquistare una memoria solida esterna vi mostrerò il link anche di questa è prodotta da seagate è da un terabyte e dalla stessa architettura della memoria interna di xbox serie s e x la collegate nel retro della console e a quel punto li potete installare o copiare tutti i giochi che volete senza nessuna limitazione il problema uno solo ragazzi costa un sacco di quattrini costa intorno ai 300 euro cioè costa quanto tutta la console ora se voi siete disposti a riacquistare una serie s in buona sostanza per guadagnare un terra allora vi suggerirei di prendere direttamente una serie x che ha un terra di ram cioè il gioco sinceramente non vale alla candela si avreste un terra e 300 giga a essere pignoli ma insomma questa memoria esterna ha un costo veramente veramente scelerato per me quindi io ve la posso suggerire ma non ve la consiglio proprio completamente perché è molto molto costosa se i costi si si abbattono in futuro se si si vanno ad abbattere allora sì ma per adesso costa veramente tanto tanto allora questa è la mia memoria esterna per farvi capire vedete che cosa ho ho alien isolation sinceramente ci sono anche specchietti per la lodola attenzione perché questo ve lo dico solo io ve lo dico solo io non ve l'ha detto nessuno perché i youtuber che sono impegnati a prendere quattrini dagli sponsor ma sanno un cavolo allora assassin's creed odyssey nonostante porti il logo xs lo potete giocare dar disk esterno ve lo faccio vedere lo faccio girare dar disk esterno sito questa è una roba fra noi questa è una roba che rimane fra noi potete giocare assassin's creed ottimizzato xs xs dar disk esterno perché potete fare questo perché il gioco non è nativamente ottimizzato è stato patchato successivamente aggiungendo i 60 frame e aumentando la risoluzione quindi non sfrutta probabilmente del tutto la velocity architecture però loro non ve lo dicono vedete che lo sto facendo i caricamenti ovviamente saranno più lunghi perché lo giocate dal disk esterno ma lo potete giocare da lì i 60 frame ci sono la risoluzione c'è ve lo faccio vedere e finirò per fare un altro video lunghissimo chiedo venia in anticipo ma d'altronde ripeto a me piace questo aspetto colloquiale siccome mi sembra di aver capito che anche l'ultimo video da mezz'ora lo avete seguito tutto o quasi beh faccio l'azzardo di un altro video lungo se acquisite questa informazione significa che siete arrivati fin qui e io lo apprezzo moltissimo cioè che potete giocare assassin's creed odysse dal disk esterno anche se loro vi dicono di no e non solo ci sono anche altri titoli magari o man mano quelli che scopro ve li dico e non c'è nessun problema assassin's creed odysse lo potete giocare dal disk esterno anche se ottimizzato xs serie e serie s e serie x confermo questa cosa ve lo faccio anche vedere vedete che i caricamenti sono molto lunghi molto più lunghi di di valhalla perché valhalla lo giocavo dal disk interno eccolo qui e guardate se la prende proprio comodissima è è così i caricamenti veloci scordatevi non sono sicuro funzioni neanche il qui cresium o se funziona non è come quello del velocity ma il gioco è comunque 60 frame a 1080p adesso lo vedete perché lo vedete perché voi adesso mettete il video a 1080p e 60 frame e io vi dimostro che gira a 1080p e 60 frame non ci credete impostate il video a 60 frame non c'è problemi vedete che va che va a 60 lo vedete come è definito e lo sto giocando da hard disk esterno quindi è la versione ottimizzata post ottimizzata però tra l'altro splendidamente facciamo un encomio a ubisoft perché ha fatto un lavoro che veramente molti sviluppatori dovrebbero prendere esempio cari amici boxari tutto a 60 non c'è uno scatto non c'è un'esitazione niente di niente guardate che meraviglia amici amici se volete il video di quattro minuti tutto turbo con lo youtuber che parla tipo robon pazzito questo non è il canale per voi mi spiace qui si si dialoga tranquillamente ma c'è ma ve la potete prendere 20 minuti di relax nella vita io lo farei io me lo guarderei un video di 20 minuti non è che mi rovina la vita 20 minuti rispetto a quattro che cosa dovete fare in quei 15 minuti in più se potete imparare qualcosa di nuovo nella vostra amata xbox vedete insomma è questo e non solo e non solo e non solo c'è anche un altro titolo che gira dal disco esterno ed è shadow of the tomb raider anche se è ottimizzato le mie scatole ottimizzato se avete visto il video è praticamente la versione con fps boost che è stata spacciata come come ottimizzata ma non lo è questa questo è un po un mezzo colpo sotto la cintura da parte di square enix ma vabbè ma vabbè hai logo ma non lo merito su serie s e poi su serie x magari quello non l'ho testato ma su serie s è così è la versione one che va a 900 p con l fps boost aggiunto manuale 1080p anche questo lo si può giocare da hard disk esterno vedete dimostrazione questo non lo caricherò tutto se no faccio un video di un'ora è giusto per farvi vedere che parte da hard disk esterno eccolo vedete quindi questi giochi qui io ce l'ho tutti su hard disk esterno anzi no me l'ha ripristinato scusate eccoli quindi call of duty questo gira perché non è ottimizzato fa una fantasy questo sarebbe ottimizzata a dirvelo ma gira uguale perché i giochi 360 non rientrano in questa regola nella velocity per fortuna fa una fantasy 15 lo potete tranquillamente giocare da hard disk esterno red dead redemption nell'attesa di una patch xs lo potete giocare da hard disk esterno rise of the tomb rider lo potete giocare da hard disk esterno capito questi sono quelli interni e ripeto asa screen valhalla alla velocity quindi lo dovete giocare per forza da hard disk interno o esterno lo guardate ma non guardare ma non toccare idem per fifa 22 quindi è così fifa purtroppo non si può giocare neanche con il cloud credo credo e controlliamo perché non sono sicuro mi sembra che i titoli play non hanno cloud perché ancora microsoft non l'ha scusate electronic cards non l'ha permesso quando potranno stipare i loro giochi nel cloud probabilmente attiveranno per ora tutti i giochi ea ea vanno scaricati per forza sulla console quindi questo può essere un problema in effetti quindi ok ragazzi spero abbiate un quadro preciso se volete e lo consiglio anch'io perché io ho un hard disk da 2 tera semplicemente i giochi con la velocity me li tengo sull'hard disk interno per ora non sono molti però ovviamente possono aumentare acquistate pure l'hard disk da 2 tera l'ho collegata alla console e ci installate i giochi che non hanno la velocity o quelli che ce l'hanno semplicemente ce li stipate poi e poi ve li rispostate ci cura un po di tempo un po di pazienza in chiusura io vi faccio vedere la gestione degli hard disk esterni è qui e non se la trovo dispositivi di spot dispositivi di despotivi dispositivi di memorizzazione eccolo qui qui gestite i vostri hard disk esterni li formattate ricordate che quando collegate l'hard disk da 2 tera va formattato in modo che si possano installare giochi xbox non lo formattate per contenuti multimediali perché quello il sistema lo intende se ci volete stipare dei file vostri delle foto no lo dovete formattare per i giochi xbox quindi deve essere avere un format una formattazione in format che è una trasmissione una formattazione specifica vedete che questa è la mia memoria interna 364 giga sono quelli che avete effettivi su serie s ovviamente tutto questo se no mi dite che faccio tutti i video su serie s questo vale anche per serie x che però ovviamente a 800 giga di default non 300 quindi questo è un problema lievemente minore ce la potete fare anche con l'hard disk interno probabilmente senza bisogno di uno da 2 tera mentre per la piccola serie s sì un hard disk da 2 tera è fortemente consigliato vedete eccolo qui ma scusatemi è da un tera è vero perché quello da 2 sera ce l'ho collegato al computer vabbè quindi chiudo con questa ultimissima nota perché è la serie s ha un hard disk così piccolo ragazzi perché un hard disk altissime prestazioni ma sapete quanto costano costano un sacco di soldi per quello che costa la macchina era impossibile offrire un hard disk da un tera ci dobbiamo accontentare perché serie s costa 275 euro è poco più del costo dell'hard disk ma ve l'ho già detto quanto costa la memoria esterna di seagate costa 300 euro per raggiungere un tera costa un sacco di soldi sta memoria ragazzi e cara e quindi è così bisogna accettare dei compromessi se non li accettate e vabbè aprite il portafoglio ragazzi e preparate a spendere un sacco di soldi per la memoria ma a questo punto io mi chiedo non conviene acquistare una serie x che al costo della serie s più la memoria velocity costa la scosterebbe vi vorrebbe accostare lo stesso lo stesso prezzo e avete serie x con un un tera un tera di memoria cioè 1000 giga bene chiudo con questo dilemma grazie per avermi seguito ci vediamo al prossimo video e facciamo un po di salute prima in chiusura dai tanto ormai il video è già a lungo allora salutiamo ciccio bro venchè ci salutiamo marco bertotti un classico del nostro man classe del marco ci dà un sacco di ha fatto un bel commento gli ho fatto anche complimenti perché ha fatto un commento intelligentissimo ragazzi perché alla fine vi parlano tutti di super schede video ma poi quelle che volete acquistare sono quelle con il miglior rapporto qualità prezzo franzo al l'elmurix valerio pistori enrico calozza dario torrisi ti sumo poi chi c'è h7 25 la nostra mascotte susanna galassi lei c'è sempre non manca mai ma poi magari dai via facciamo qualche saluto poi me ne vado dai 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 salutiamo giuseppe catuogno poi diciamo questi vediamo questi facciamo qualche numero nuovo da questi avevo salutati no questi no mamma mia perché le sto sto guardando dai commenti dei video ragazzi non mi ricordo tutte a memoria vediamo qui poi chiudo dai sandro canola luccio crpg dexter morgan franco di gian vincenzo alessio lubrani salvatore menale e basta dai un saluto a tutti gli amici del canale grazie veramente per il vostro appoggio e calore e avanti così ci vediamo su video ciao